buongiorno avventurieri benvenuti in questo nuovo video lo so sono peggio di una donna mi sono comprato un altro paio di scarpe però questa volta c'è un buon motivo avevo qui stato l'estate scorsa delle giro metto qui sopra il link del video ma non mi son trovato bene erano troppo rigide erano corte le ho cambiato preso una misura in più erano troppo lunghe insomma non mi andava bene allora mia moglie per natale mi ha fatto il regalo eccolo qua queste bellissime scott guardate che belle che sono hanno anche questo è il sistema boa ma a differenza delle altre che era qui sopra e dava veramente fastidio è qui sul lato motivo in più per il quale le ho acquistate molto areate hanno un sistema che si chiama xflex che rende la suola abbastanza morbida c'è il rinforzo qui in punta belle areate ma il colore molto 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 belle anche queste hanno il sistema spd e adesso lo montiamo insieme vi faccio vedere come faccio io prendo un pezzo di scotch la stocca e lo metto in questa posizione facendolo sbordare sulla pianta stessa cosa facciamo dall'altra parte ecco qua una volta fatta questa operazione calziamo la scarpa e poi dopo andiamo a cercare il metà tarso interno ed esterno ed andiamo a segnarlo con un pennarello una volta che abbiamo fatto i segni metà tarso esterno metà tarso interno giriamo la scarpa e continuiamo la linea sulla parte che ha sbordato dello scotch perché così riusciamo a vedere perfettamente la linea che abbiamo preso sul lato una volta fatto questo andiamo a regolare la tacchetta tra i due segni a metterla direttamente qui in mezzo e poi andiamo io faccio così metto giusto a metà la tacchetta perché è asolata e si può e può scorrere a destra e sinistra io la metto direttamente in centro e poi stringo questo è il metodo che uso io per fissare gli spd alle scarpe scrivete nei commenti che cosa ne pensate e che metodi usate voi è molto importante perché così io posso capire se è giusto se è sbagliato anche se fondamentalmente io mi trovo molto bene niente ragazzi questo video termina qui è stata solamente una presentazione del regalo che mi ha fatto mia moglie che mi ha fatto molto piacere sono molto belle sono contento e se questo video vi è piaciuto vi chiedo di mettere un like se non siete iscritti al canale molto male iscrivetevi e alla prossima